Come è il fatto di rigenerazione urbana? Come è il fatto di poter essere una delle prime aziende produttrici di cementi e calcestruzze a livello globale allineata per esempio agli SBTI Targets, qualcosa che sicuramente per voi è familiare. Altra cosa importante è come questa cosa poi diventa tangibile, quindi quali sono i target, quali sono gli obiettivi che ci poniamo a far diventare questa cosa in realtà. Per esempio il fatto di avere la metà del fatturato che deriva da prodotti sostenibili e su un fatturato di 20 e passa miliardi non è sicuramente poca cosa. Ma non solo, perché l'argomento di oggi molto più interessante del fatturato è come portiamo a casa i risultati in termini di emissioni di CO2, per esempio legati alla possibilità di poter catturare CO2 facendo cemento. Si parla spesso di decarbonizzare l'industria delle costruzioni, si parla spesso delle soluzioni che devono essere messe in pratica, si parla molto meno spesso di come questo possa diventare realtà magari il prossimo anno. Perché è importante? Perché se pensiamo che circa la metà dell'embodied carbon, cioè della CO2 che deve essere emessa per produrre materiali, se parliamo di un asset class, quale per esempio un residenziale, deriva dal cemento e dal calcestruzzo, capiamo bene qual è l'importanza. Io posso decarbonizzare in maniera relativamente semplice la parte di operational carbon. Faccio contratti con società che fanno energia verde, tutto sommato la parte operational me la posso cavare. Molto molto più complicato è decarbonizzare la parte di embodied carbon, cioè quello che i materiali si portano in dote. E qui entra in gioco la possibilità di fare cementi nel tesiro carbon utilizzando la carbon capture. Carbon capture che cos'è? Fondamentalmente è, nel caso nostro del cemento, mettere un gigantesco filtro di CO2 su una cementeria, la prima sarà breve che in Norvegia da metà del prossimo anno in avanti, catturare la CO2 e far sì che poi la CO2 una volta catturata venga gestita, come in questo caso venga stoccata. Quindi carbon capture, cattura della CO2, storage, la S, non usage in questo caso. Come si fa? Beh, sulla carta è semplice, si installa un filtro sulla cementeria, si gestisce la CO2 catturata con un sistema di pipeline, si va poi a stoccare in questo caso la CO2 in un giacimento di gas vuoto che sta nel mare del nord, a circa 2,5 km sotto la superficie del mare. Sulla carta è facile, nella pratica è molto molto complesso, tant'è che per arrivare qua ci sono muti circa 20 anni tra studi, progettazione e poi rimesse in opera. Questo impianto verrà terminato a fine di quest'anno, quindi nell'arco di un mese e mezzo. Dopodiché da metà del prossimo anno in avanti sarà commercialmente operante e quindi sarà messo sul mercato il cemento nel zero carbon per la prima volta su una scala reale. Per fare velocemente capire come funziona, se questa è l'emissione della cementeria al camino, viene presa la CO2, viene stoccata temporaneamente in queste bombole da circa 5.000 m3, viene poi trasferita a una centrale finale dove viene ricompressa, rilavorata, dopodiché viene reiniettata in un giacimento di gas vuoto o in un acquifero salino. Tipiche domande, c'è spazio abbastanza per la CO2? Beh, decisamente sì, noi cattureremo in questo impianto circa 400.000 tonnellate, considerate che solo in questi siti c'è spazio per 80 milioni di tonnellate a crescere. Seconda domanda, stoccar CO2 è sicuro? Ancora una volta, la risposta è sì, non stiamo in prima a fare stoccaggio della CO2. Oil and gas, industrie che nel Mar del Nord sono molto, molto, diciamo, fiorenti, già lo fanno da più di 20 anni, quindi mi ha scelto un sito in una modalità che sicuramente è sicura. Terza cosa, è la prima volta che si fa sul cemento? Decisamente sì, su questa scala perlomeno. Qua parliamo di avere una cementeria che produce mezzo milione di tonnellate di cemento all'anno, net zero carbon, operante su scala reale. Non parliamo di prove di laboratorio o piccole start-up, che sono esempi virtuosi, che servono per portare avanti la ricerca, ma se pensiamo di sviluppare un prossimo fulfillment center di un qualsiasi operatore della logistica importante, con quelle quantità non ce la facciamo. Dobbiamo pensare a qualcosa di diverso. Qualche foto per farvi capire che significa a livello di impianto fare un revamping del genere. Parliamo di capex massivi, nell'ordine dei miliardi di euro, per un solo impianto. E cosa forse interessante è capire un po' la scala, perché l'assorbitore e il dissorbitore che vedete qua, al netto di quello che può interessarsi della parte tecnica, è alto come il Big Ben di Londra. Cioè sono veramente impianti massivi, con dei revamping massivi per arrivare a questi risultati. E altra cosa interessante è come poi questa cosa arriva sul mercato. Perché se avessimo seguito il modello tradizionale del cemento, del calcestruzzo, quindi business di prossimità, io produco a Brevik, qui più o meno, vicino a Oslo, e poi consegno dove logisticamente ha senso. Nordics fortissimi sulla parte dei shipping terminal, quindi posso arrivare via nave in tutta la Norvegia, in tutta la Svezia e magari anche in UK. Già si fa. Molto molto semplice, tra virgolette, dal punto di vista logistico. Cosa invece un po' più complessa è dire, ok, ma posso pensare a un modello più virtuoso, più efficiente per condividere questi benefici, magari a livello europeo? Ancora una volta la risposta è sì. Come si fa? Beh, ragioniamo un secondo come facciamo per esempio con la parte di energia elettrica. Chi di voi ha un contratto con un provider di energia sostenibile? In questo momento non sa se la corrente che sta alimentando il vostro ufficio arriva da un impianto a carbone o da un impianto idraulico. Non sapete. Neanche noi sappiamo. Paghiamo un provider per immettere sulla rete la quantità di energia che noi consumiamo, lui le mette in rete, ma gli elettroni che accendono i nostri computer sono indistinguibili. La stessa cosa vale per la CO2. La CO2 emessa è catturata a Breivik e la stessa CO2 emessa è catturata a Roma, a Milano, dovunque potete pensare nel mondo. Quindi quello che possiamo fare è adottare un sistema di book and claim, che è la stessa cosa che utilizziamo per la corrente elettrica, in modo tale che io se devo fare uno sviluppo immobiliare che sia a Roma, che sia a Firenze, che sia dove vogliamo, posso utilizzare materie prime locali, prodotti dei nostri impianti. Posso stimare le emissioni di CO2 legate a questa consegna, a questa supply, e posso poi riassorbire nella cementeria di Breivik, utilizzando la carbon capture, la stessa quantità di CO2 che è stata emessa per fare la supply di quella particolare materia. Non è uno schema di offsetting, altra tipica domanda. È uno schema di insetting, è qualcosa di diverso. Io non sto vendendo in questo momento, attaccato al mio materiale, un certificato in cui farò una riforestazione che da qua ai prossimi 20 anni porterà risultati. Sto lavorando con un ente terzo che si chiama DMV, che a livello globale è una delle aziende di assurance più riconosciute, per far sì che quello che porto sul mercato, attaccato ai miei prodotti, è un certificato verificato da un ente terzo, e per essere ancora più trasparenti, messo poi in blockchain. Ancora una volta, la blockchain non è il bitcoin, o meglio, non è solo bitcoin, blockchain è molto altro. È una tecnologia che consente di verificare a un terzo cliente o qualsiasi stakeholder, passo per passo, momento per momento, in maniera trasparente, le transazioni fatte. Quindi è possibile accedere via web a un registro pubblico, in cui si vede che per il lavoro fatto al Maxi di Roma, il prossimo sviluppo del grande Maxi, potrebbe essere verificato la CO2 è stata catturata a Brevik, in data X, trasportata al terminale, stoccata, e poi rilasciato certificato sul cliente che ha acquistato. È una cosa molto diversa, ed è una cosa che tipicamente non va direttamente su chi fa sviluppo. Chiaramente il cliente principale del B2B nostro è magari il contractor, piuttosto che chi utilizza il cemento. Ma è un qualcosa che deve essere tenuto in considerazione da chi vuole decarbonizzare i propri sviluppi. Perché se parliamo di CO2 al metro quadro o CO2 al metro cubo, e se vogliamo veramente lavorare su quell'industria, per esempio i data center, che hanno bisogno in questo momento, un bisogno incredibile di questi materiali, per decarbonizzare i materiali, altre soluzioni non ci sono. Anche perché questa cementeria sarà l'unica, per i prossimi tre anni, a poter fare questo lavoro. Gli altri arriveranno più avanti. Questo è il recap di quello che ci siamo raccontati. Il primo impianto al mondo su scala operativa, dal 20-25 in avanti sarà possibile utilizzarlo, e circa 400 metri di CO2 catturate e stoccate ogni anno. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.